Un erbario è una collezione di piante pressate ed essiccate che vengono identificate, classificate e conservate su fogli di carta. Realizzarlo è l'occasione per contribuire alla conoscenza della biodiversità dei nostri territori e monitorarla nel tempo. Diventerete così dei veri e propri custodi amici della biodiversità. Per la raccolta servono forbici, guanti, palette e sacchettino di carta. Potete costruire una piccola pressa con due lastre di compensato, vecchi giornali o carta assorbente, un trapano e viti lunghe con farfallina. Per un'alternativa più semplice basteranno due lastre di compensato, carta da giornale o assorbente e due elastici. Procuratevi ora un quaderno che diventerà il vostro erbario e adesivo naturale per attaccare foglie, fiori e rametti. Passiamo poi alla raccolta di campioni. L'ideale è raccoglierli durante la fioritura. Le piantine devono essere fresche e non troppo umide. Ricordatevi di catalogare anche la data e il luogo di raccolta. Fate attenzione alle specie protette. Alcune piante sono rare e non possono essere raccolte. Una volta raccolte, passate all'essiccazione nella piccola pressa che avete costruito, che deve avvenire in un luogo asciutto e ventilato. Una volta essiccati, i vostri campioni possono essere attaccati nel vostro erbario, in modo che tutte le parti siano ben visibili. Ricordatevi di annotare tutte le informazioni in vostro possesso. Buona raccolta e buon lavoro!